Buonasera, bentrovati alla terza edizione del Tg6 che apriamo parlando di cronaca perché a Trieste la procura giuliana ha indagato un sacerdote Don Paolo Piccoli molto conosciuto all'Aquila e Pizzoli comune dove a lungo è stato parroco del paese. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Sta facendo scalpore in città il coinvolgimento di Monsignor Paolo Piccoli in un giallo di cronaca. Monsignor Paolo Piccoli, infatti 51 anni, nativo di Verona, fino a un paio d'anni fa in servizio a Trieste ha prestato servizio per tanti anni come parroco di Pizzoli, comune popoloso dell'Aquilano. Oggi Monsignor Piccoli risulta sotto inchiesta come possibile responsabile del giallo del seminario che sconvolse Trieste due anni fa, quando Monsignor Giuseppe Rocco di 92 anni fu trovato cadavere nella sua stanza nella casa del Clero. A riportare la notizia il quotidiano terrestino il Piccolo, ma subito ha fatto il giro della città dell'Aquila dove Monsignor Piccoli è molto conosciuto. Inizialmente la morte di Monsignor Rocco di 92 anni era parza naturale, poi la svolta e l'apertura di un fascicolo a carico di gnoti da parte della procura. Gli inquirenti infatti ad oggi stanno indagando per omicidio. Ucciso, come riscontrò in seguito il medico legale, dalla rottura di un piccolo osso in corrispondenza della carotide che ne causò la morte. Soffocamento naturale o strangolamento dunque, le indagini a questo punto sembrano propendere per la seconda ipotesi. Tanto che Don Piccoli, difeso da due avvocati, dovrà comparire il prossimo martedì 13 dicembre davanti al GUP Giorgio Nicoli, il giudice per l'udienza preliminare, chiamato a decidere a proposito della richiesta di rinvio a giudizio a suo carico davanti alla Corte d'Assise per l'ipotesi di reato di omicidio aggravato, formulata dal PM Tripani. Una svolta dovuta al fatto che una serie di piccole macchie di sangue trovate sotto il corpo di Don Rocco, riverso senza vita sul letto, appartengono senza ombra di dubbio al profilo genetico di Don Piccoli, come hanno attestato le analisi scientifiche dei RIS di Parma, che una volta accertato che quel sangue non era della vittima, hanno isolato un non ristretto elenco di DNA, soprattutto attraverso cosiddetti tamponi volontari, ovvero campioni di saliva resi dalle persone convocate dagli inquirenti. Il presunto assassino, in occasione di una delle deposizioni che l'hanno coinvolto, si sarebbe difeso sostenendo di essere affetto da una malattia dermatologica che gli provoca talvolta delle piccole emorragie anche alle mani e che il sangue si sarebbe potuto propagare nei paraggi del corpo senza vita di Don Rocco perché fu proprio lui l'accusato a impartirne la benedizione nel momento in cui venne trovato morto. Una spiegazione che però non viene ritenuta plausibile in sede investigativa, anche perché quelle macchioline sono state rinvenute appunto al di sotto del cadavere in determinati punti di difficile accessibilità, in occasione di un'estremensione, e non soltanto al di sopra o ai suoi lati. L'inchiesta non trascura anche che, nei giorni immediatamente precedenti alla morte di Don Rocco, dalla stanza di quest'ultimo sarebbero spariti alcuni oggetti sacri, o perlomeno di valore simbolico, riconducibili alla religione, una Madonna, un veliere e un cavallo. Simulacri di cui Don Rocco avrebbe denunciato in ambito ecclesiale la scomparsa, inserendo proprio Don Piccoli, che ha peraltro nel suo curriculum precedente di inchiesta, proprio carico all'Aquila, per furto di oggetti sacri, tra quelli che se ne sarebbero potuti impossessarsi, tanto che, a ridosso del 25 aprile, lo stesso presunto killer avrebbe ricevuto dalla direzione del seminario una lettera di richiamo. Le tre statue, la Madonna, il veliere e il cavallo, sarebbero ricomparse poi a stretto giro dopo l'omicidio nella stanza di Don Rocco. Parliamo ora di cronaca, un incendio distrutto. Nelle prime ore del pomeriggio di Ferragosto, un hotel di Spoltore. Vediamo il servizio di Francesca Romanatesti. Un incendio nel primo pomeriggio di ieri a Spoltore che ha creato non poche preoccupazioni a residenti e cittadini. L'hotel Città Bianca, situato in Viale Europa, si è visto bruciare tetto e sottotetto. Alla vista del fumo e del principio di incendio, tutti gli ospiti sono usciti fuori dalla struttura in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, che appena giunti sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Spoltore e gli agenti della polizia locale. Durante l'intervento tre vigili hanno riportato una lieve intossicazione da fumo e ad un primo esame i danni sarebbero ingenti. Nel frattempo lo stabile è stato dichiarato temporaneamente non agibile. Ancora cronaca, ci spostiamo all'Aquila, arrestato dagli uomini della polizia di Stato per due tentativi di furto. Un romeno che gli era stato applicato un bracciale elettronico e che era agli arresti domiciliari. Giorgio Alessandri. Sarebbe dovuto stare a casa agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia il ladro di origini rumene che la notte tra il 13 e il 14 agosto è stato arrestato dagli uomini dell'ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico in servizio di volante all'Aquila. Era passata la mezzanotte quando i poliziotti della volante hanno raggiunto il complesso Rottiglio Center per una segnalazione di una persona all'interno negli ufficio dell'ex service ditta che avendo ricevuto il segnale di allarme ha subito avvisato il 113. Giunti immediatamente sul posto hanno notato uscire dallo stabile un uomo con un copritombino inghiso sulle spalle che una volta scoperto lo ha gettato a terra dileguandosi in direzione della SS80. Durante l'attività di perlustrazione alla ricerca del fuggitivo il personale ha sorpreso l'uomo che con un oggetto metallico tentava di rompere una porta in vetro di un'altra attività commerciale. L'uomo nuovamente scoperto è scappato per la seconda volta e dopo l'inseguimento è stato acciuffato. Negli uffici dell'ex service lo straniero aveva forzato e danneggiato la porta d'ingresso, l'impianto elettrico, il sistema d'allarme, alcuni computer e un condizionatore. In alcuni vani aveva messo tutto a soccuadro. Il rumeno è attualmente destinatario di una misura cautelare agli arresti domiciliari con l'applicazione di un braccialetto elettronico in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso lo scorso 18 aprile. Il soggetto è comunque noto agli uffici investigativi ed operativi della questura e delle altre forze dell'ordine territoriali per i numerosi pregiudizi di polizia a carico, quasi tutti riguardanti i reati contro il patrimonio riportati nella sorma e lunga permanenza nel territorio aquilano. Ancora cronaca, tre strutture d'accoglienza per anziani realizzate abusivamente, sono state sequestrate e sono state sanzionate per 5.000 euro. Questo è il bilancio dei controlli dei carabinieri del NAS di Pescara, eseguiti a ferragosto per vigilare sulla regolarità delle strutture che assistono le persone anziane. Nello specifico i militari del NAS hanno ispezionato tre case famiglie, due nel Chietino e una in provincia di Pescara e hanno scoperto che una quarantina di anziani ultraottantenni erano ospitati in locali privi dei requisiti necessari e delle autorizzazioni. Inoltre sono state riscontrate nelle cucine carenze igienico-sanitarie. Una cucina è risultata anche priva di autorizzazione. I responsabili delle strutture sono stati deferiti per esercizio abusivo della professione. I carabinieri del NAS hanno anche provveduto a segnalare le criticità evidenziate alle autorità sanitarie per eventuali provvedimenti del caso. I controlli finalizzati alla tutela delle fasce deboli proseguiranno senza sosta per tutto il mese di agosto. Ancora cronaca sono rassicuranti i dati e i risultati relativi alle analisi effettuate dall'Arta sulle acque meteoriche di lavamento su un campionamento di terreno prelevati nel sito in località Colle Sant'Antonio dove il 27 giugno del 2015 si è sviluppato un incendio all'interno di una discarica abusiva di rifiuti speciali e tossici. Tali prelievi come evidenziato dall'Arta sono stati effettuati a seguito della richiesta inoltrata dal comune di Chieti nel campione di acque meteoriche di levamento. Sono stati ricercati i parametri chimici di base, metalli, idrocarburi e solventi organici sulla base dei risultati analitici. L'Arta non ha rilevato superamenti dei valori di standard di qualità ambientale per le acque superficiali previsti dal decreto legge 152 del 2006 nel campione di terreno. Sono stati ricercati metalli, solventi e idrocarburi e anche in questo caso non sono stati evidenziati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione. Cambiamo pagina. Abruzzo sotto i livelli. Lea per quanto riguarda i posti letto. Per anziani non autosufficienti. Nelle residenze protette la Regione ha decretato l'aggiunta di ulteriori 60 posti letto nella Asla di Chieti, Lanciano Vasto, Alfredo Primante. La struttura commissariale della Sanità per la Regione Abruzzo ha autorizzato 60 nuovi posti letto da destinare a residenza protetta per anziani non autosufficienti nei presidi di Atessa, Casoli e Gissi. Il decreto è stato già predisposto e nei prossimi giorni sarà notificato alla Asla Lanciano Vasto Chieti per i successivi adempimenti. Saranno attivati 20 posti letto in ciascuna struttura, prevedendo anche la riconversione di alcuni presidi per garantire la copertura dei fabbisogni rimasti insoddisfatti. La carenza di residenze per anziani non autosufficienti, sottolinea l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, rappresenta uno degli aspetti su cui si sta concentrando l'azione del Governo regionale. In Abruzzo, infatti, ha oggi la dotazione di posti letto dedicati e pari a 5,56 ogni 1.000 abitanti, a fronte di un valore minimo riferito da Ilea di 10. Da qui la necessità di prevedere un aumento consistente per centrare l'obiettivo del fabbisogno stimato in 2.708 posti letto. I 60 posti previsti ad Atessa, Casoli e Gissi, si vanno ad aggiungere ad altri 20 già attivati nel presidio sanitario di Guardia Grele. Per il momento, continua Paolucci, la regione si sta occupando delle strutture pubbliche, mentre successivamente saranno valutate anche le proposte presentate dai privati e già trasmesse alle asle della regione Abruzzo, così da soddisfare interamente il fabbisogno registrato sul territorio. Parliamo ora di balneabilità. Ok ai tuffi in mare a Pescara dagli ultimi dati Arta sulla balneazione. Infatti i dati sono tutti conformi, in particolare i risultati microbiologici si riferiscono ai prelievi che l'Agenzia ha effettuato lo scorso 13 agosto. Nello specifico i punti di campionamento sono stati effettuati nelle zone antistanti via Galilei, via Balilla, via Muzzi e Fosso-Vallelunga. Gli esami dell'Arta inoltre hanno certificato la conformità anche 100 metri a nord della foce Fosso-Pretaro, sempre in relazione al comune di Pescara e 100 metri a sud della stessa foce ricadente nel comune di Francavilla al mare. I prelievi in questi due ultimi casi sono stati effettuati lo scorso 11 agosto. E cambiamo ancora pagina, una svastica disegnata sopra i manifesti del PD. A Pescara continua così la battaglia a suon di Locandine. Vediamo. Una guerra col PD manifesti. Tutto inizia a pescare quando l'amministrazione comunale trova fisse Locandine sul fascismo. Immediatamente si provvede a coprire quei manifesti con nuove Locandine, targate PD, che dichiarano il dissenso per ogni forma di fascismo. Ma la storia non finisce qui. Proprio sopra quelle Locandine, due giorni fa, compaiono delle svastiche, disseminate in tutti i punti in cui compare il manifesto del PD. Ma innanzitutto c'è da dire che non è il PD che fa coprire quei manifesti che inneggiavano al fascismo. Quelli vanno coperti, andavano coperti, l'amministrazione comunale ha fatto bene a farli coprire perché controlegge. Dopodiché adesso abbiamo trovato come reazione, e credo che sia davvero una stupidaggine, delle svastiche su manifesti del PD. Credo che in questa città, ma come penso in tutto il nostro paese, non ci sia assolutamente spazio per rigurgiti neofascisti o neonazisti. Quindi penso che sia assolutamente una stupidaggine di qualche balordo. Polemiche ancora per l'assessore al commercio del comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, che dopo le richieste di dimissioni avanzate da un gruppo di esercenti decide di rispondere. Un gruppo di esercenti chiede le dimissioni dell'assessore al commercio di Pescara, Giacomo Cuzzi. La storia gira intorno ai rinvidi, manifestazioni come la Notte Bianca, che causa maltempo è stata rinviata ben tre volte, e ad una serata dedicata esclusivamente allo shopping, che invece vedrà protagonisti e artisti sul palco, e dunque il timore di vedere sfumare guadagni e presenze. Questa è la risposta del diretto interessato, che da settimane si trova al centro delle polemiche. Sul commercio questa amministrazione ha prodotto un grande lavoro in questi due anni, partendo da lavori strutturali che incidono fortemente sulla vita dei commercianti, come l'abolizione della tassa sulle insegne, la nuova opportunità del plurinegozio. Abbiamo programmato con le associazioni di categoria Pescara Shopping, appunto, per la notte del 19 agosto, tanti eventi nel cuore della città per riaccendere la funzione commerciale, e poi anche con delle iniziative. Abbiamo concordato la programmazione per quanto riguarda il periodo invernale, da subito 70 mila euro per le luminari natalizie, porteremo a Pescara, saremo la terza città, ad aderire al circuito di luci d'artista, cioè di fare del periodo natalizio e delle luminari un vero e grande evento diffuso, e entro fine anno 50 mila euro per rilanciare la funzione del centro commerciale naturale. Lo faremo in sinergia con tutti, ascoltando anche coloro i quali, al di là delle associazioni di categoria, si sono riuniti facendo delle proposte. Noi siamo disposti a lavorare, a ragionare sulle proposte, non siamo disposti a ragionare con coloro i quali, invece di proporre delle idee, puntano come primo tassello le divisioni di questo o quell'assessore. Così non si cambia, non è così che si costruisce il futuro, noi vogliamo costruirlo con tutti quelli che hanno disponibilità, tempo, passione e coraggio per darci una mano e per lavorare affinché possiamo scrivere tutto insieme delle pagine positive per la nostra città. Banche, scusate, barche agli ormeggi per l'avvio del fermo pesca nella nostra regione che terminerà il prossimo 26 settembre. Col diretti avverte i consumatori di fare attenzione al pesce che viene servito soprattutto nei ristoranti e di controllare sempre l'etichetta prima di acquistare il pescato. Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta da pesca italiana lungo tutto l'Adriatico da Trieste a Bari. A darne notizie col diretti in presa pesca che sottolinea come il provvedimento di fermo si allarga al tratto di costa da peso a Bari per 43 giorni dopo che era già scattato lo scorso 25 luglio nel tratto da Trieste a Rimini per un periodo analogo. In un paese come l'Italia che importa più di due pesci su tre nei territori interessati con il fermo biologico aumenta peraltro anche il rischio, sottolinea in presa pesca col diretti, di ritrovarsi nel piatto per grigliate, fritture e soprattutto al ristorante un prodotto straniero o congelato se non si tratta di quello fresco made in Italy proveniente dalle altre zone dove non è in atto il fermo pesca dagli allevamenti nazionali o dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche della piccola pesca che possono ugualmente operare. Il blocco delle attività in Adriatico, spiega la col diretti, terminerà il 5 di settembre nel tratto da Trieste a Rimini e il 26 settembre nel tratto da Pesaro a Bari. Per effettuare acquisti di qualità al giusto prezzo il consiglio di col diretti è di verificare sul bancone l'etichetta che per legge deve prevedere l'area di pesca GSA. Dall'associazione arriva anche una critica però all'attuale format del fermo pesca inaugurato esattamente 30 anni fa che secondo col diretti è dimostrato di essere inadeguato poiché non tiene conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo mentre per la maggior parte delle altre si verifica in date differenti durante il resto dell'anno. Da qui la proposta di col diretti impresa pesca di differenziare il blocco delle attività a seconda delle specie mentre le imprese ittiche potrebbero scegliere ciascuna quando fermarsi in un periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 ottobre. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornare il Dolag Village fa un appello per ritrovare i proprietari di Mucca un bracco che non si sa bene come è riuscito a salire su un treno a Termoli per arrivare fino a Pescara. Una storia che ha del comico se non fosse che di mezzo c'è una cagnolina che non riesce a ritrovare la sua famiglia. Mucca, si chiama così la protagonista, è una femmina di Bracco che il giorno di ferragosto è inspiegabilmente salita da sola su un treno a Termoli fino a quando due ragazzi, qualche fermata più in là, si sono accorti di lei e hanno cercato aiuto per ritrovare il suo proprietario. Giunti a Pescara, Eliano e Costanza si sono rivolti alla polizia ferroviaria e grazie all'intervento del comandante Zaccone si è arrivati al nome una donna residente a Roma ma al numero indicato sul chip nessuna risposta. Ora Mucca si trova ospite presso il Dog Village di Montesilvano dove Carmelita Bellini offre ospitalità a ben 150 cagnolini persi o abbandonati. Le ricerche continuano ma per ora sembrerebbe tanto che la piccola stia trascorrendo le vacanze al meglio. Il comandante mi ha contattata per sapere cosa fare. È stato contattato la polizia municipale dove non sono intervenuti e quindi abbiamo risolto diciamo con la tenacia del comandante che il cane ha il chip e risiede a Roma. I proprietari non siamo riusciti a trovarli nemmeno oggi quindi sono già diciamo due giorni. Siamo in attesa di poterla restituire. È una cagnetta, ha un nome molto originale, Mucca. E qui niente, siamo in attesa di poterla ridare tutto qui. Per il primo compleanno a due cifre la notte di Tottea di Crognaleto in provincia di Teramo si regala la presenza del cantautore Roberto Vecchioni tra i più apprezzati nel nostro paese e non solo. Appuntamento a partire da domani quando si inizierà con la Pompieropoli dedicata ai più piccoli. Con il presidente della Proloco parliamo di questo importante appuntamento della Notte Azzurra di Tottea. Tanti gli eventi in queste due giorni. Sì, quest'anno abbiamo dato un risalto maggiore visto che ricorre il decennale della nostra manifestazione. Si inizia il 17 con un laboratorio per bambini di pupazze sempre attinenti a quello che è la musica popolare abruzzese perché poi alle ore 15 ci sarà l'inizio del Festival del Saltarello e così si abbineranno l'un con l'altro. La sera si prosegue con il Festival del Saltarello dimenticavo alle ore 16 c'è Pompieropoli che l'abbiamo inserita all'interno di questo evento gli abbiamo dato una cornice per la nostra manifestazione un evento che ringrazio il comandante dei Vigili del Fuoco di Teramo e l'amministrazione del Comune di Crognaleto che hanno voluto così abbinarla alla nostra manifestazione. Il 18 si inizia lo stage di musica internazionale per poi farli cimentare la sera con i gruppi di folclore alle ore 15 inizierà la seconda tappa del Festival del Saltarello e alle ore 22 tutti aspettano il noto artista il concerto di Roberto Vecchione una musica d'autore che senz'altro sarà di nostro apprezzamento non solo nostro ma anche di tutta la vallata della provincia di Teramo che invito tutti a essere presenti il 18 alle ore 24 saranno i fuochi per poi proseguire con l'orchestra del Saltarello e poi fino alla mattina con musica per giovani e quant'altro. È un percorso ludico formativo su quello che possa essere l'attività che svolgiamo quotidianamente quindi ci saranno dei giochi adatti ai bimbi dove verranno affrontate alcune difficoltà ad esempio lo spegnimento di un principio di incendio la discesa di una pertica quindi si affronterà la sensazione del vuoto una parete d'arrampicata una sorta di sfida con l'equilibrio dove si andrà a attraversare una trave un ponte tibetano quindi i bimbi verranno messi un attimino alla prova su quello che possa essere quello che facciamo noi in sintesi per un futuro e quindi i bimbi rispondono sempre in maniera molto positiva a questa cosa perché è un vuoi che un po' amano il lavoro nostro e quindi di questo ne siamo molto orgogliosi. Apriamo la pagina dello sport parliamo di calcio del Pescara che si prepara alla gara di campionato all'esordio di domenica prossima alle 20.45 lo stadio Adriatico con il Napoli mercato in fermento la società Biancaazzura ha chiesto al Napoli Grassi per quanto riguarda Aquilani si aspetta una risposta nelle prossime ore qualche problema per Gaston Silva dunque Pescara più che mai mobilitato per completare il roster e dunque presentarsi all'esordio di campionato sicuramente con una formazione all'altezza e noi a proposito di Pescara torniamo nel prossimo servizio alla gara vittoriosa in Coppa Italia con il Frosinone Buona la prima per il Pescara che nell'esordio assoluto stagionale all'Adriatico supera il Frosinone per 2-0 ottenendo il passaggio al quarto turno di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta di Giampiero Gasperini successo strameritato per i biancazzurri che oltre alle reti realizzate da Verre hanno costruito altre occasioni mancate di poco anche per le parate di Bardi in attesa dei rinforzi Oddo può sorridere perché seppur a sprazzi la sua squadra ha fatto vedere buone cose si comincia su un terreno di gioco davvero brutto a vedersi con 6.000 cuori biancazzurri sugli spalti in campo Oddo manda un Pescara propositivo e con Gianluca Caprari come punta di movimento l'avvio è degli ospiti con un colpo di testa al secondo minuto di Daniel Ciofani che incorna però al lato il Pescara però prende subito alle misure i ciociari al quarto minuto e Caprari a mettere anche lui di testa al lato della porta laziale la gara è godibile al decimo ci prova l'ex celanese Dionisi con un bel tiro centrale il Pescara con il passare dei minuti cresce all'undicesimo e Valerio Verre a fare le prove generali del vantaggio chiamando Bardi al salvataggio passano 7 minuti e l'ex Perugino non sbaglia mettendo alle spalle di Bardi a due passi dal portiere Ciociaro il giocatore va poi ad esultare sotto la curva quasi a ribadire la voglia di restare in biancazzurro e scacciare le voci di mercato il Pescara è galvanizzato dal vantaggio e continua ad attaccare e al ventitresimo e Zampano a mancare di un soffio la rete del raddoppio con un tiro violentissimo che sfiora il palo la squadra di Oddo attacca ancora e mette alle corde gli ospiti che rischiano di capitolare alla mezz'ora con Biraghi che chiama Bardi alla parata il Delfino è scatenato e al trentaduesimo Caprari con Bardi fuori dai pali tenta un pallonetto trovando però la risposta dell'estremo giallo-blu l'ultima occasione del primo tempo è per gli ospiti con un tiro però senza pretese di Frara che non crea problemi a Bizzarri nella ripresa si riparte con una ghiotta occasione per Ciofani che manca il pari in aria con una gerata di poco a lato al quinto azione insistita di Ben Ali che poi va a commettere fallo su un avversario al momento del tiro un attimo dopo ci prova anche Caprari che conclude debolmente ma in agguato c'è sempre lui Verre che al settimo va a segnare il gol del 2-0 mettendo la gara poi in discesa per gli Adriatici i biancazzurri con il doppio vantaggio controllano bene la gara di fronte ad un frosinone fragile al sedicesimo arriva poi il momento dell'ultimo arrivato Ghiomber che entra al posto di un buon coda al ventiquattresimo prima va a vuoto e per poco Caprari in mezza rovesciata non realizza il tris con Marino che impreca con i suoi dalla panchina al ventisesimo si rivede Ben Ali con un tiro respinto da Bardi e poi al trentaquattresimo arriva la prima vera parata dell'estremo biancazzurro Bizzarri su punizione di Gusser gli ospiti provano a fare qualcosa ma mancano due occasioni con Dionisi al trentottesimo e al quarantacinquesimo con un'ottima parata di Bizzarri prima del fischio finale che regala al Pescara un meritato passaggio del turno Soddisfatto il tecnico del Pescara Massimo Oddo che si gode la doppietta del giocatore del momento Valerio Verre che continua ad essere l'oggetto del desiderio di molte formazioni della massima serie Sì, ben augurante anche se non c'entra niente nel campionato però da queste partite si possono trarre i primi concetti quello che si riesce a vedere insomma oggi sono contento perché ho visto la continuazione di quello che abbiamo iniziato l'anno scorso la squadra ha giocato ha fatto molto bene credo anche con qualche difficoltà per mancanza di ruoli però sulla base del lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso cioè di lavorare sui concetti poi puoi spostare gli uomini ma il risultato non cambia certo, ognuno con le proprie caratteristiche però Caporari ha fatto la punta Verre ha fatto il trequarchista quindi sono contento sono contento per i nuovi che hanno fatto molto bene e quindi le indicazioni sono molto positive ma io non credo molto a queste cose perché poi alla fine o sei stupido e allora vai contro i tuoi interessi oppure dai tutto in campo il giocatore quando va in campo si deve divertire lui oggi si è divertito ha fatto bene insieme ai propri compagni poi io faccio un allenatore non sono il presidente il direttore sportivo l'amministratore delegato di questa società io posso dare un giudizio tecnico sui giocatori posso decifrare quanto sia importante un giocatore in questa squadra e posso consigliare poi di più non posso fare ma i nuovi si stanno applicando tutti oggi ha fatto molto bene partire da Bizzarri a Gomber quando è entrato a Coda che è praticamente il nuovo e Cristante insomma ha fatto anche Gasbrug ma ha fatto molto molto bene quindi sono contento perché sono tutti giocatori calcisticamente molto intelligente quando sei intelligente calcisticamente impari in fretta sono contento di essere qui a Vasto per la consegna di un premio così prestigioso sono onorato di riceverlo e ringrazio tutti è un premio che mi si addice perché corrisponde al percorso della mia vita sono stato anch'io un emigrante ma del calcio sono partito da Pescara per altri lidi per poi tornare nella mia città dove ho vinto il campionato di serie B la vita è fatta di responsabilità che vanno prese e io l'ho fatto lo ha detto presso l'arena alle grazie a Vasto l'allenatore Bianca Azzurro Massimoddo partecipando alla festa del ritorno aggiunto alla quarantunesima edizione nel corso della quale gli è stato consegnato il premio Silvio Petroro dell'associazione Pro Emigranti in collaborazione con l'amministrazione comunale il premio in effigie del monumento all'emigrante collocato al Belvedere Romani in città dal palco arriva una domanda sul Pescara ci auguriamo che sarà un bel Pescara quello che vedremo in serie A ha detto Oddo in grado di fare un buon campionato dando del filo da torcere a tutti e noi parliamo ancora del Pescara perché lo abbiamo ascoltato proprio dalle parole del tecnico pescarese fra i migliori nella gara col Frosinone l'uruguaiano Gaston Brugman Gaston una vittoria importante permette di superare il turno di Coppa Italia ma anche ben augurante perché ci sarà il Napoli fra dieci giorni dunque questa sera avete già dimostrato anche a livello fisico di essere a buon punto sì sì si è lavorato tanto abbiamo corso tanto la preparazione è stata intensa e penso che ha servito a molto questa prima partita vediamo è una partita difficile sappiamo e pensiamo che con il nostro gioco con la nostra voglia di dimostrare di rimanere in serie A possiamo ottenere dei risultati a livello personale di dimostrare ancora che posso rimanere in serie A e dimostrare la gente di Pescara il giocatore che sono stato e che ho dimostrato per tante partite io volevo ritornare volevo prendere in mano il centrocampo e penso che sono sono un buon punto e una volta che prendo il posto non lo voglio lasciare lasciamo il calcio parliamo di motociclismo perché il pilota vastese Andrea Iannone è partito in pole position domenica scorsa vinto il gran premio d'Austria del MotoGP battendo il proprio compagno di squadra Andrea Dovizioso alle spalle delle due Ducati la Yamaha di Giorgio Lorenzo e di Valentino Rossi solo quinto il dominatore fin qui del mondiale Mark Marquez su Honda sempre in testa alla classifica piloti della lotta in famiglia Ducati Iannone ha avuto la meglio facendo la scelta di montare le gomme morbide nonostante la Michelin le avesse sconsigliate perché non in grado di finire la gara Dovizioso invece aveva accolto il consiglio del produttore di mescole calzando le dure ma la scelta del pilota abruzzese ha pagato di più consentendogli di rimanere al comando fino alla bandiera a scacchi e dal motociclismo passiamo alle Olimpiadi al beach volley storico risultato per il beach volley azzurro sulla spiaggia di Copacabana infatti il duo composto da Paolo Nicolai abruzzese di Ortona e Daniele Lupo si è qualificato per la semifinale del torneo olimpico battendo ai quarti la coppia russa Liamin-Barsuk per 2 a 1 con i parziali di 21-18 20-22 15-11 e questa era l'ultima notizia per quanto concerne la terza edizione del nostro telegiornale grazie come sempre per averci seguito l'augurio di una serena notte grazie a tutti 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 grazie a tutti